Arriva anche a Gela l'onda contagiosa dei ragazzi del tour giallo, appuntamento previsto dal 16 al 21 agosto prossimi. In un periodo in cui il mondo sceglie la superficialità, la violenza, l'intoleranza, ecco un gruppo di giovanissimi che hanno preferito investire sul loro periodo di vacanza a proprie spese per andare nelle spiagge e nelle piazze di tutta Italia, offrendo animazione gratuita e giocoleria di strada ad adulti, adolescenti e bambini. Il loro obiettivo è quello di trasmettere quei valori che purtroppo vanno sempre più a mancare. Amicizie, perdono, tolleranza, aiuto verso chi ha bisogno, solidarietà, un orecchio attento verso la comprensione del prossimo. Saranno in 60 provenienti da tutta Italia e saranno facilmente individuabili, saranno tutti vestiti di giallo. I 60 giovanissimi verranno ospitati in palestre, chiese, campeggi, tende per i più romantici anche in sacchi a pelo al chiaro di luna e si adatteranno al buon cuore di coloro che li ospiteranno. Proporranno gratuitamente attività recreative, dinamiche sportive, acqua gym, risveglio muscolare, balli di gruppo, spettacoli, animazioni, musica nelle spiagge, nelle piazze del centro città, lungo le passeggiate e nelle zone balneari. Il programma giolese si svilupperà dalle 10 alle 13 e dalle 21 alle 23. Martedì 16 agosto animazione alla Lungomare vicino alla Capitineria di Porto e in piazza San Francesco. Il 17 agosto al Club Vela e spettacolo serale in piazza Roma. Il 18 nei pressi della Capitineria di Porto e la sera a Macchitella. Il giorno dopo a Rotonda Macchitella e piazza Umberto I. Il 20 agosto sempre nei pressi della Capitineria di Porto e la sera in piazza Salandra. Il 21 agosto invece sarà proposto un gospel nei locali di Palazzo Pignatelli.